Mico di Milano per il World Business Forum. Siamo con Giorgio Nicasto, presidente di Whyout Consulting. Grazie per essere con noi. Grazie a voi. Tema centrale di questo Wobby è Exponential. Ecco, come lo decliniamo? Exponential è un mondo che corre, che cresce a livello esponenziale, quindi che si sviluppa come un virus. Chiaramente quando si parla di questa crescita esponenziale ci si riferisce principalmente alle nuove tecnologie che avanzano, all'innovazione, alle intelligenze artificiali, eccetera. E questa è una componente importante a cui anche noi dobbiamo guardare e che non si può fermare. A fianco a questo noi vediamo l'esigenza di far crescere l'elemento umano, quindi l'essere umano che non deve diventare vittima di questa crescita esponenziale delle tecnologie, ma deve saper dominare queste tecnologie nuove, che possono a questo punto diventare una grandissima opportunità. Ecco, queste tecnologie nuove che immagino si inseriscano anche nelle sfide che vi trovate davanti. Assolutamente sì, noi già abbiamo fatto delle sfide importanti, abbiamo già digitalizzato, se così vogliamo dire, una buona parte dei nostri servizi più importanti. Adesso stiamo portando avanti dei progetti con alcune università e non solo italiane, perché ci sono dei nuovi mondi da scoprire, c'è la blockchain, ci sono nuove traguardi, nuove frontiere da esplorare e per noi che facciamo consulenza alle aziende è importante essere più innovativi di loro, essere più avanti di loro, quindi scoprire per primi come funzionano queste nuove tecnologie, queste nuove opportunità in modo da poter aiutare poi le aziende e i clienti a fare i passi necessari per un'evoluzione tecnologica. Ed è anche con questo che si inserisce la vostra presenza qui al Wobby, immagino. Assolutamente sì, perché Wobby è uno di quei pochi posti dove si parla di tecnologie che crescono, però si parla ancora molto di esseri umani, si parla di persone, il valore umano viene riconosciuto, è centrale in ogni argomento, in tutti i temi che vengono trattati e quindi noi che ci occupiamo di persone siamo orgogliosi di essere qua, di sostenere l'Uobby con la nostra partecipazione e abbiamo anche un ritorno molto importante perché questa è la platea migliore dove parlare di contenuti di valore. Bene, ringraziamo Giorgio Onicasto, presidente di Wyatt Consulting, per essere stato con noi. Grazie mille. Grazie a voi.